Oggi vi faccio la lasagna di nonna! Per prima cosa ho l'olio extravergine di oliva in un tegame capiente, poi metto la cipolla, il sedano e la carota. Una volta messo tutto, faccio rosolare. Bene, ora metto il macinato di maiale, il macinato di vitello, mescolo bene e faccio cuocere per 6-7 minuti a fiamma vivace mescolando frequentemente. Ok, a questo punto metto il vino bianco e lo faccio evaporare, ci vorranno altri 4-5 minuti. Ok, a questo punto mettiamo il sale, il pepe, aggiungiamo il brodo vegetale bollente, la salsa di pomodoro, faccio cuocere per almeno 2 ore a fiamma media senza coprire. Quando la salsa di pomodoro sarà a buon punto, possiamo prepararci tutti gli altri ingredienti. per cui mettiamo a bollire le uova, un goccio d'aceto per non far rompere i cusci, le facciamo bollire per 8-9 minuti, dovete considerare 8-9 minuti dal momento del bollore. dopo 2 ore mettiamo la besciamella nel ragù, mescoliamo bene bene, ora sul fondo di una teglia mettiamo qualche cucchiaio di ragù, poi mettiamo la sfoglia, di nuovo il ragù, bene così, ora mettiamo le uova sode, che ho tagliato come vedete a pezzetti, abbondante parmigiano grattugiato, provo l'affumicata, e alla stessa maniera facciamo altri 5-6 strati. sull'ultimo strato, ancora ragù, mettiamo una bella spolverata di parmigiano grattugiato, abbondiamo perché così farà una bella crosticina sopra, e andiamo a cuocere in forno statico già caldo per 45 minuti a 180 gradi. e allora appena spento il forno adesso lascio riposare e intiepidire per un'oretta nel forno con lo sportello semi aperto. ed eccola qui appena tolta dal forno, mamma mia, assaggio con voi, mamma mia, io corro a mangiare, fatela, e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su youtube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale, o qui sopra se siete su facebook, io vi saluto e vi auguro buon appetito!